Si terranno il 30 ottobre i colloqui per i 230 candidati ai tre progetti del servizio civile presso il comune di Eboli. I colloqui dei candidati ammessi saranno effettuati dall'ente accreditato a Mesci, uno dei più prestigiosi sull'intero territorio nazionale, e sono stati programmati presso il centro sociale di Salerno in via Raffaele Cantarella. Tre i progetti presentati dal comune, Cultural Expo Fuori Pericolo e Libertà e Partecipazione. Abbiamo mantenuto l'impegno di dare possibilità e spazio ai giovani che rappresentano il futuro, commenta il sindaco Massimo Cariello. Stiamo mettendo in campo decine di iniziative affinché i nostri ragazzi possano trovare momenti di indispensabile formazione, garantendosi una preparazione necessaria per il futuro, una certezza per se stessi e per le proprie famiglie.